Un'auto in grado di muoversi in modo autonomo senza bisogno di nessuno alla guida. È la Brave, così si chiama il prototipo, il cui giro dimostrativo è stato fatto all'interno della Fiera di Bologna in occasione di Research to Business Days, salone dell'innovazione e della ricerca organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, Bologna Fiere, Aster ed Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale. Passeggeri dell'auto del futuro, messa a punto da Vislab, lo spin-off della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Parma, rigorosamente sul sedile posteriore sono stati l'assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna, Duccio Campagnoli, e Alberto Broggi, presidente di Vislab e responsabile del gruppo di ricerca che ha focalizzato l'attenzione sull'incremento della sicurezza stradale. Quest'auto è un esempio di cosa può fare la ricerca? Cosa può fare la ricerca? La tecnologia dell'Emilia-Romagna che dopo aver prodotto Ferrari, Maserati e Ducati guarda già anche all'auto del futuro e pensiamo anche alle tantissime e straordinarie applicazioni di enorme utilità che questa tecnologia può mettere in campo per assistere i veicoli in tutte le possibilità di guida assistita e più sicura, per far lavorare, che so io, le macchine agricole senza la necessità della fatica delle persone, per lavorare ancora meglio nella logistica industriale, e quindi è un'applicazione straordinaria che dice anche che cos'è quella idea a cui pensiamo come cuore dei nostri tecnopolio, cioè quella che chiamiamo la Manufutur, la Manifattura del futuro, che vedrà assieme la nostra grande meccanica con tutte le applicazioni possibili delle nuove tecnologie elettroniche, microelettroniche, telematiche, insomma un mondo tutto da esplorare e sul quale investire molto. Brave è considerato un prototipo unico al mondo per la complessità tecnologica. 16 laser anteriori localizzano il veicolo davanti per la guida automatica in colonna. Laser scanner frontali, laterali e posteriori individuano veicoli e ostacoli in avvicinamento anche in caso di pioggia e nebbia. Numerose telecamere riconoscono ostacoli, veicoli, pedoni e segnali stradali. Il GPS localizza il veicolo sulle mappe. Computer gestiscono tutti i dati rilevati e agiscono sui meccanismi frenanti di accelerazione e di guida perché il veicolo proceda in sicurezza. Questo progetto di questa auto che si guida fra virgolette da sola, dove nasce e che prospettive intende raggiungere? È nato lì a Parma, al nostro gruppo di ricerca, e l'obiettivo che abbiamo è quello di migliorare la sicurezza stradale. Quindi avere un sistema che automaticamente guida il veicolo, diciamo nel futuro questo, e evita appunto che ci siano incidenti. Nel breve periodo invece vorremmo realizzare sistemi che aiutano il guidatore. Quindi c'è ancora un guidatore a bordo, non come nella dimostrazione che stiamo facendo adesso senza nessun a bordo, ma c'è un guidatore a bordo e il guidatore viene aiutato dal sistema. Quindi se approccio una curva troppo velocemente, se tendo a uscire di carreggiata, se sto troppo vicino al veicolo di fronte, automaticamente mi aiuta, quindi cambia, gira il volante, frena, accelera, insomma dà un aiuto. E poi avrete, nel prossimo anno, farete una cosa particolare, un'avventura. Sì, un'avventura, nel vero senso della parola, partiremo dall'Italia e raggiungeremo la Cina. Con quale mezzo? Sarà un veicolo simile a questo, a quello che abbiamo presentato oggi, però totalmente elettrico. e vorremmo percorrere 13.000 km senza nessuno a bordo, quindi avere un veicolo che parte dall'Italia con delle merci italiane, arriva in Cina senza nessuno a bordo e senza consumare un goccio di benzina perché sarà appunto un veicolo elettrico. Quindi anche ecologico? Assolutamente, questo è uno dei tanti obiettivi che abbiamo, quindi avere un veicolo unico e fare una dimostrazione unica non solo per il grande show che questo qui può essere, ma anche perché riusciremo ad avere alla fine un grosso bagaglio culturale, nel senso che arriveremo ad avere 13.000 km alle spalle che nessuno ha e riusciremo a registrare tutti i dati dei sensori del veicolo che nessuno ha mai fatto. Quindi è una cosa unica nella storia che ci darà un grosso vantaggio rispetto agli altri. Grazie a tutti.